al senales primo novembre 2012 nevica tempo secco i ragazzi oggi faranno slalom i master morti proverà a nasciare ci aggiorniamo più tardi ciao eccoci che va carina pronta la partenza per questa prima giornata di speciale in arsenales da sinistra Lucia Capitani alla guida dei suoi baby cuccioli Matteo, Anna e Davide Mizzio in giallo alla guida di Giada, Flavia, Lucia, Elia che sta partendo Matteo e Michele è partito Elia però sia meglio Roberto Facchieri Grazie a tutti 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 Grazie a tutti